Martedì 22 novembre Geocom Italia nei locali della Confindustria Pesaro Rubino alle 17 organizza un importante appuntamento si intitola Intelligence e Business all'estero come muoversi in sicurezza in mercati a rischio. Con Daniele Prioli di Geocom andiamo a capire le motivazioni che guidano all'organizzazione di questo incontro. Un appuntamento importante che vede Confindustria Pesaro protagonista sul territorio con ospite il generale Mori già fondatore del ROS e del direttore generale del SISDE che illustrerà le tematiche relative all'organizzazione delle missioni commerciali all'estero in sicurezza. Un tema estremamente interessante e di attualità sicuramente anche alla luce dei recenti accadimenti internazionali. Si tratta di provare a munire di una sorta di manuale di istruzioni su come muoversi in questi mercati a rischio? Parleremo di impresa e soprattutto di come organizzare in sicurezza una missione commerciale all'estero quindi forti dell'esperienza anche del colonnello De Donno che ha al suo attivo diversi scenari internazionali di carattere operativo dove vengono analizzate in dettaglio le caratteristiche di come gestire in sicurezza una missione commerciale un aspetto particolarmente importante per quanto attiene alla responsabilità di impresa e dell'imprenditore.